matematica il quadrato di un trinomio esempio con schemi facilitati calcola il seguente quadrato di un trinomio aperta tonda 3 a più 3 b meno c chiusa tonda al quadrato svolgimento 1 utilizziamo questo schema fisso all'interno del quale inserire i valori da calcolare 2 inserisci i valori all'interno dello schema fisso quindi abbiamo inserito 3 a 3 b e meno c poi 3 a per 3 b 3 a per meno c e 3 b per meno c ora calcola i quadrati e le moltiplicazioni delle parentesi quindi 9 a alla seconda più 9 b alla seconda più c alla seconda più 2 per 3 a per 3 b fa 9 a b 3 a per meno c fa meno 3 a c 3 b per meno c fa meno 3 b c 4 ora termino le moltiplicazioni dei doppi prodotti quindi più 2 per 9 a b fa più più 18 a b più 2 per meno 3 a c fa meno 6 a c più 2 per meno 3 b c fa meno 6 b c risultato 9 a alla seconda più 9 b alla seconda più c alla seconda più 18 a b meno 6 a c meno 6 b c 10 a c meno 7 b j 10 a c meno 7 b c Grazie a tutti.